I commercianti del centro chiedono più sicurezza. L'ennesimo furto perpetrato ai danni di un'attività commerciale del centro storico aquilano rende quest'ultimo sempre più oggetto di attenzioni. Tant'è che l'assessore alle opere pubbliche del comune dell'Aquila Maurizio Capri ha annunciato di recente l'installazione di telecamere a partire da settembre in centro in alcune zone della periferia. Questa volta essere preso di mira il ristorante pizzeria Il Vicoletto nei pressi della Fontana Luminosa. Un furto con spaccata e danni ingenti anche all'interno. Presi due tablet, tutto l'incasso della giornata precedente e anche bottiglie di vino di valore. I commercianti chiedono più sicurezza, soprattutto chi ha fatto tantissimi sacrifici per riaprire la sua attività nel centro storico. Niente, praticamente siamo stati avvertiti all'ottavo di mattina che c'era un buco alla porta, hanno forzato la serratura, hanno bucato il vetro, con il bagno di antipanico sono entrati, hanno fatto un po' di danni all'interno, hanno rubato cassa, tablet, quelle che hanno trovato, le cose più spicce da recuperare. L'importo non ancora lo stimiamo, comunque il danno c'è, ma più che il danno è la rottura del vetro, il disagio e comunque il ramarico e comunque la sicurezza non ce l'abbiamo. Non ci sentiamo sicuri soprattutto perché comunque la notte qua è un far west, non ci sentiamo sicuri perché comunque vediamo che di giorno pattuglie per una piccola manifestazione ne arrivano 100-200 cellerini, invece la notte gira una sola pattuglia, la torna in parte a Monticchio. Serve controllo, serve controllo notturno, serve che il questore, il sindaco metta a disposizione dei cittadini, di chi lavora e dei commercianti qualcuno che gira la notte. Vito sorveglianza? Anche video sorveglianza, se serve video sorveglianza, anche video sorveglianza. Durante Adriano, Giorgio Armando, Gianni Sergio, Masciato Giustino. Un appello nominale, quello di questa mattina in consiglio comunale all'Aquila, che è suonato come una mera formalità, visto che sui banchi della maggioranza, ad inizio della seduta di approvazione del bilancio comunale, c'era solo l'anziano consigliere Giuseppe Ludovici del gruppo Misto e Antonio Di Nardantonio del Partito Democratico. Ed anche sul banco della Giunta c'erano solo poltrone vuote. Un'assenza di massa che ha fatto mancare il numero legale, però calcolata ed annunciata. La maggioranza non è andata al mare o in montagna, è stata solo costretta a disertare l'Aula, prendere tempo, almeno fino a metà agosto, in attesa che il governo approvi il decreto, rivisto e corretto, che stanzia 16 milioni di euro di trasferimenti straordinari post-sismici, senza i quali il Comune non potrebbe chiudere il bilancio, se non aumentando di molto le tasse, e con tagli draconiani alla spesa, misure che poi diventerebbero irreversibili. Un escamotage tattico che però non ha impedito alle opposizioni civiche di centrodestra, presenti in Aula, di fare pesanti ironie e di accusare la maggioranza. La verità per loro è che il governo amico ha tagliato di parecchi milioni l'importo del trasferimento straordinario e ora la maggioranza è allo sbando. Si sta cercando di rimediare al guaio dei 16 milioni di euro che il governo non ci ha dato, quindi oggi ci sarebbe stato l'aumento della dare al 50%, ma non abbiamo avuto atti e quindi non si può fare la salvaguardia e quindi si aspetterà molto probabilmente la diffida del prefetto, come al solito un escamotage politico sulle spalle degli aquilani. Siamo a un punto di non ritorno perché per l'ennesima volta non si rispetteranno i tempi. Promozione turistica mirata a 360 gradi, anzi anche con le più avanzate tecnologie della realtà virtuale, elevazione della qualità e degli standard dell'ospitalità e dei servizi, creazione di pacchetti turistici integrati e competitivi. Questo si propone l'associazione Stava, composta da professionisti del settore e cittadini che amano e vogliono far conoscere al mondo come merite il loro territorio, ovvero l'Alta Valle dell'Aterno in provincia dell'Aquila, al confine con il Lazio, che si estende dall'incantato lago di Campotosto alle Faggete e Pascoli di Pizzoli, passando per le vaglie e le montagne incontaminate di Monte Reale, Cagnano, Capitignano e Barete. Primo step sarà un convegno per la promozione della nuova imprenditoria, in programma sabato alle ore 18 a Capitignano, a cui prenderanno parte player di rilievo del settore turistico, tra cui solo per citarne alcuni Massimo Terzuoli, esperti in fondi comunitari, Giacomo Festa, imprenditore sardo a livello internazionale nel settore multimedia, web marketing e tecnologia 3D, Giovanna Prioli, imprenditrice emiliana, che nella riviera romagnola opera nel mercato in costante crescita del turismo e del benessere. Al nostro microfono Dario Tudini, presidente dell'Associazione Stava. Stiamo cercando di dare una mano a tutti i nostri giovani che hanno perso fiducia nella nostra splendida terra, ma maggiormente stiamo cercando di aiutarli a tirar fuori dal cassetto quelle loro idee, che fino ad oggi sono state sotterrate da una massa di burocrazia o da persone che non credono nel futuro della nostra splendida zona. Sarà il primo convegno, l'argomento principale è illustrare la nostra splendida zona, vedere cosa si può fare e cosa possono fare i nostri giovani. Sì, specialmente col turismo, ma il turismo ecologico, fatto di sport, turismo, passeggiate, mountain bike, di tutto. È quello che ci può dare la nostra zona e la vicinanza al parco. Grazie a tutti.